Ha messo d'accordo tutti, critica e pubblico, l'allestimento per la regia di Giancarlo Marinelli di una delle opere più importanti e rivoluzionarie di Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, che ha inaugurato la 73esma edizione del ciclo di spettacoli classici del Teatro Olimpico di Vicenza, di cui è direttore artistico lo stesso Marinelli. Non era una sfida semplice da affrontare, ma l'autore autoctono, originario proprio della città verica, anche drammaturgo, scrittore ed attore, è riuscito a smontare e rimontare il complesso intreccio narrativo della storia, ambientata negli anni 20 del Novecento, proponendo un'acuta riflessione sulle dinamiche dei rapporti umani riconducibile anche ai giorni nostri. La corposità della traccia letteraria della memorabile autrice britannica viene rimodellata ed alleggerita con una levità malinconica che non soffoca l'aspetto drammaturgico, ma al contrario sa coglierne nuovi significati arricchendo l'allestimento nel suo insieme grazie ad una resa espressiva degli interpreti davvero ammirevole. Attori tra cui svetta quella Anna Galiena, di cui si sono perse le tracce al cinema, capace di incarnare efficacemente la figura della protagonista, la ricca signora Clarissa Dalloway, impegnata ad acquistare fiori in vista della elegante festa che ha organizzato per la serata. Monologhi, dialoghi e parti corali si incrociano con grande dinamismo, dove le scene principali riconducono ad un'ammirabile espressione collettiva che segna il culmine del senso drammaturgico dell'opera, a cui come detto rende grande intensità un cast dominato da quella Ivana Monti, che in meno giovani ricorderanno regina dei palcoscenici italiani negli anni 80 e 90, capace di conferire spessore ed umanità a Doris, affiancata da Richard, qui da volto il figlio d'arte Ruben Rigillo, suo padre è Mariano Rigillo, mentre Romina Mondello tratteggia con delicatezza la figura devota di Lucrezia. Bravi anche Fabrizio Bordignon, Fabio Sartor, Andrea Cavatorta e Giulia Pelliciari, a completare un insieme di interpreti davvero affiatati e oseremmo dire intonati, tanto è ammirevole la loro capacità di adattarsi al testo, rendendolo toccante e poetico, con sfumature oniriche magnificamente sottolineate da un teatro olimpico che non smette mai di affascinare, garantendo un valore aggiunto ineguagliabile ad ogni evento che vi si sviluppi. L'Italia e in questo caso anche il Veneto possono andare fieri di una tradizione espressiva che a distanza di secoli sa mantenere intatta la sua forza e capacità introspettiva.